Buongiorno a tutti, in tanti di voi mi hanno chiesto come cambiare le batterie, semplicemente. Per questo tipo di modello di centralina, la C57 Intelligent Air le ha situate qua sopra, sembra che sia attaccato, ma invece c'è uno sportellino, praticamente, che voi sganciate con tanta semplicità, le batterie sono locate qua sopra. Quelle invece, modelli più vecchie, allo sportellino le hanno locate qua sotto, e quelle lì invece, a incasso, ce le hanno collocate praticamente sotto alla centralina che si estrae per cambiare le batterie. Ok? Quindi, queste centraline qua vi ricordo ancora le varie funzioni per il caldo riscaldamento, per il freddo condizionamento, perché potete usarlo anche collegando a una pompa di calore che fa anche condizionamento, le varie funzioni, temperatura di comfort, io ho messo 21,2 perché la casa è molto fredda, e la temperatura di, quella di più bassa temperatura, che sarebbe la zona, praticamente vedete, la zona nera, praticamente, di economy, sarebbe 20 gradi, con le varie funzioni che qua semplicemente sono state spiegate, vedete? Quindi, quando voi volete cambiare le batterie alla C57, praticamente, sono locate qua sopra. Ok? Vi saluto, un saluto, un breve saluto all'Italia 24, sarete pronti perché in settimana andrò a installare una caldaia nuova, di nuovo tipo, molto economica, ma funzionale, niente a che fare con le Baxi, sicuramente, che sono tecnologicamente avanzate, sono delle ottimissime caldaie, ma anche su questo qua, se vogliamo fare il prezzo al cliente, abbiamo una caldaia che può fare sempre al nostro compiacimento della caldaia, che funziona bene, senza dare nessun troppi problemi. Un saluto dal DriveH24 e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!